musica 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 Alla fuga, fammi vivere, ecco! Bello nel viso! Top! Ok, analisi più comunicazione. Buongiorno, non è che ci faccio a prendere i soldati di sotto. Ok, aprimi il portone qui. Lo storage. C'è l'ecco qua. Luce non me la accendi, sei cattivo, male di cazzo. Facciamo un pochino al piano, ragazzi. Ecco, l'abbiamo visto in tutti i colori. C'è anche l'acqua di ponderga. Ricarichiamo. Ok, questo si è caricato. Ricariciamo, ha ricardo, così via. Ah boh, grazie. Andiamo avanti. Qui c'è gente che spara. Oddio. Qui c'è? Muori. Bastard. No. Peccativo. Peccativo, il rato nervoso. Ah, che si deve fare un giochino di partitura. E' interessante che si spara un po' di loro. Ah, e poi anche, ah no. Oroigh. Non ne yardsli. Di solare laей serpa. Allora, asup moon com pursue. Non puoi aspettare su la tua macchina, togli the sun. Colano. Buco di una strada per la macchina! e si avanti c***a ci devono essere giudizia mancava per cosa no mi becchi, no mi becchi, no mi becchi per queste mosche oddio, o m***a o, 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 te le tu mosche se non te le dà a me oddio ma te le dà a me rovescio no, qui mi sarebbe pulisata per aprire la porta lì ma bravo, vatti la scanna con... però non dipende cosa adesso pulisci alto il tempo di fa riscarsi in un'altra porta vieni oh, scavalco adesso vieni mi serve di... ah, bravo, guarda aspettai un attimo di pista si, un attimo, non ci leggeva una mare style che fa un po' di vandalismo vieni ah ho volantare di essere entrato nel cannone di Star Black Mountain apri la porta ho più dovere buon calmo tanto buon calmo non succede nulla tipo si ok mi ha fatto attività ok ok ma adesso dobbiamo distruggere l'aria per rompere l'anima ma... mi pare con questo sinistro allora, con questi due ci dovresti adattare che sgancia e... dai dai distruggiti dai non ho tutto il giorno vai fuori ma non è morto ma non è cosa ha vai adesso mi ricordo su dove devo andare per l'amor di dio ci sta anche io mi aspetto per l'amor di dio che dovevo fare? distruggere o c'era qualcosa che mi serviva c'era qualcosa che mi pare si sfondava senti che sta ammato ci rammazza ma... si ecco vedi ovviamente io ho fatto una pazzata per non dare questa da risposta cazzo scantati da nulla sono scantati così vabbè le bani qui apparenano da nulla per lo scappo e lì e lì per lì un po' ma 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 la fin la conoscete? ah ok no, non la conoscete si deve essere bastante soda però Guarda questa specie di capezzolo qui Vabbè la forza Che cazzo Mi mangi Io Allora Distraio e ricarico Che cazzo Questo è ringraziamento Oh Tu che 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 tu Oh Oh Già è vero che a fare Non è vero che a fare Non è vero che Qui si deve fare questa specie di massa Di Ma Non è vero che ne vengono attirire ardi Di quei da fuori Guarda se si schianta Non è vero che questo E poi Ecco la mia maglia Non piacerò E se chiusi a fare la sua Oh, non si è schiacciata Ok, quindi perché si sfondava il muro Eh no E c'era qualcosa che mi mancava Cravano i gondicati Non ci stava Cazzami A me per il sole lì con il cannone Oh, ok Sparamosche, sparamosche, mori Guarda lì la mosca gommosa che ti rimbalza di qua di là da me Vabbè ci te l'ho scommessa, è una piccola grande Oddio, mi scelto in mezzo siccome sono furto Ma neanche spara una cosa lì che è più grossa mosa, non sparerà a me Sì, vai Io, mi spesso di avervi rovinato la festa Interessante Ma qui il capitolo non finisce più o se no io che l'ho passato e non sono accorto Oh, non c'è Oh, mostro Sì, sì, arriva al giorno anche per i tanti proprio guardi Sì, sì, arriva al giorno anche per i tanti proprio guardi Sì, sì Sì, è arrivato al giorno anche Però perché l'arma lì non me la lascia? Sì, è attivo Ragazzi, prima regola Più ci facciamo i cazzi propri e più si campo Questa è la forma voluta dei talebani Sì, sono i talebani la vendetta 2 Ma vendetta dei talebani Allora, qui mi fa riuscire a... C'era il poliziotto da portare qui Mi fa riuscire a 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 riuscire Bustardo, bastardo, 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 bastardo... Tronzo, stronzo, stronzo! Beh... non può fare nulla, non lo nessuno può con Giorgio Gordon Freeman, non è Star Black però io ti apro la porta e ti spero che sei stato un bastardo guarda, buona colazione, qui serviamo alimento per una colazione noi veramente non li disturbiamo cioè sta più ad essere colazione da dei mostri cazzolini e pensa a me che non c'è un cervello quelli passi vabbè, la porta te lo scioglio tutta l'aperta, poi come te vediamo che posso sparare le mosche le mosche del congresso da me proviamo ad usare, non te quello ma un cazzo mi hai fatto questo per raggiungare non ho io, hanno le osce ok, allora se lo riesce a vedere io lo riesco a vedere insieme ha detto ok ho capito, ma c'è ok ancora vabbò 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 Cucette di... Ah, mi devi aprire il porto Ok, andamolo qui, mi ha aperta la porta Mi porta... Nel buio! Nel buio! Ah, mi riporta fuori Mi devo riportare via E' sparito, dove? Eh, no E' venito, non è capito E' venito, non è capito E' questo che mi mancava Oh no!